In questo corso, o meglio in questa masterclass di circa due ore, parleremo di un'attività che secondo me è bellissima ed è anche molto motivante, ovvero l'affitto della propria casa come location per set cinematografici televisivi o pubblicitari. E' un lavoro che io faccio da diverso tempo, ormai dal 2015 e su cui ho accumulato tanta esperienza dopo aver lavorato su grandi produzioni anche nazionali e internazionali come La strada di casa per Rai 1, Non uccidere per Rai 2, Lydia Poet per Netflix, l'ultima grande produzione che ho ospitato negli ultimi tempi. Parleremo di varie cose, non solo della parte poetica e bella del cinema, ma anche degli aspetti effettivamente tecnici che uno deve teneramente considerare quando vuole affittare la propria casa per questo genere di attività. E' ovviamente un'attività piuttosto complessa, non è così semplice, non è semplice iniziare, non è semplice farsi conoscere, non è semplice gestire il set, non è semplice neanche imparare il funzionamento del set, che sembra una cosa quasi semplice vista da fuori, ma in realtà è una macchina molto complessa, molto strutturata, che bisogna conoscere però molto bene per poterla gestire appunto al meglio quando questo si trova all'interno del proprio mura di casa. Quindi in queste ore di lezione parleremo di vari aspetti, dal set alla produzione all'organizzazione, a come gestirlo in casa, come far conoscere la propria casa alle persone che poi effettivamente devono portare le case di produzione a girare le riprese da voi. Parleremo ovviamente degli aspetti finanziari, cioè quanto costa, quanto si guadagna, che preventivi fare, che cosa è necessario fare, qual è l'assicurazione che bisogna avere, qual è la tipologia di business che diciamo c'è intorno a questa attività, qual è il modello che applichiamo, i modelli che si possono applicare, diciamo che ognuno può, è libero di decidere con che intensità ovviamente lavorare in questo settore. E soprattutto condividerò con voi tutti i miei consigli personali, i miei consigli che sono frutto di un'esperienza di ormai quasi dieci anni, su cui ho potuto vedere, in cui ho potuto vedere tanti set di diverso tipo, e che spero vi siano utili nel momento in cui qualche set, qualche casa di produzione si approccerà da voi, a casa vostra, per fare delle riprese. Bisogna ovviamente tutelarsi, bisogna essere organizzati, bisogna essere molto precisi, dirigenti, ma bisogna anche essere bravi nei rapporti umani, nelle relazioni e tutta una serie di considerazioni, di consigli che condividerò con voi molto volentieri. Questo corso è registrato e l'unico modo che ho trovato per poterlo effettivamente confezionare e gestire al meglio, negli ultimi anni ho ricevuto tantissime domande da persone che volessero capire come funziona questa tipologia di lavoro, per cui non potendo ovviamente rispondere a tutti singolarmente ho deciso di registrarlo, ma integrare il corso con un forum privato, che è libero di essere utilizzato da tutti gli iscritti, dove si possono effettivamente fare tutte le domande che si vogliono, dove si possono avviare discussioni, considerazioni, chiedere consigli, e dove io partecipo ovviamente attivamente nel più breve tempo possibile. Per cui non solo è un ottimo strumento per chiedere, fare domande e diciamo sviscerare degli eventuali ulteriori dubbi che ci sono dopo le lezioni, ma anche per creare rete, conoscere altre persone del settore, chiedere consigli e magari trovare anche qualcuno che vi generi opportunità in questo settore. E' inoltre possibile chiedere consigli e fare domande sotto ogni lezione del corso, c'è una sezione dedicata alle discussioni, basta scrivere quello che si desidera, e anche lì io sono molto partecipe. Detto questo spero che il corso vi faccia superare tutta una serie di curiosità che magari avevate da tanti anni, ma soprattutto che vi sia utile nel momento in cui deciderete di fare questo lavoro, di affrontare il grande mondo del set e di ospitarlo in casa.